Grazie, io tra un paio di ore parto, però mi sono lasciata fuori due outfit della mia capsule perché ero indecisa, quindi mi dovete assolutamente dare una mano, cioè aiutatemi da dimmi qualche consiglio, quale outfit preferite per un viaggio, soprattutto un viaggio abbastanza lungo. Voi sapete che io vado sempre sui outfit molto molto comodi, su quei look un po' over, tessuti morbidi, infatti il primo che vi mostro è il solito tagliere di cui io, diciamo, non ne posso fare a meno, io vado sempre in giro, sempre questa tipologia di outfit in valigia, l'ho abbinato con un body semplice e sempre nero, infatti io questo tagliere l'ho abbinato proprio così, cioè ho fatto proprio tutto un total black. Tra l'altro i pantaloni li avete visti anche qualche sera fa perché li ho già indossati, ora vi mostro l'altro outfit. Oh, ci fa morire da ridere falsone oggi di lunedì, ci tira un po' su di morale, vi mando in serie B, vabbè, chiudiamo con Antonella la bellissima, Lady Faggiana e Marco, ciao!